Gentili telespettatori, buona giornata. E così Andrea Gianbruno a Mediaset ha un suo ritorno, diventa vice di Giuseppe Brindisi a Diario del Giorno. Dopo lo scandalo del suo comportamento irrispettoso verso la compagna e verso le altre giornaliste con i fuori onda di striscia la notizia, questo personaggio aveva mostrato proprio dei comportamenti incredibili. Dopo quello scandalo non è stato cacciato da Mediaset, fosse stato un altro sarebbe stato cacciato, ma essendo il compagno, ex compagno, compagno della Meloni, non è stato cacciato proprio su intercessione di lei, probabilmente. A questo punto poi si sono rincorse voci che questa relazione non fosse finita e che l'ex non sia mai stato ex. Ecco, probabilmente questa è la spiegazione di quello che sta succedendo oggi, dove lui sta ritornando zitto zitto, diventa vice di Giuseppe Brindisi a Diario del Giorno e poi si parla anche di un telegiornale, quindi sarebbe stato tutto fatto per far passare il momento, silenziare la cosa per poi tornare ad avere un programma televisivo quando poi non si fosse più parlato dei suoi comportamenti inopportuni e inaccettabili. Pertanto dopo lo scandalo di quei commenti che aveva fatto il giro del mondo, che aveva portato alla forse fine relazione con la Premier, sarebbe finito la punizione del giornalista che ora sogna di condurre un telegiornale, sapete che lui prima aveva un programma televisivo, faceva la rassegna stampa, e così Gian Bruno risale la china e torna sulla plancia di Diario del Giorno, la trasmissione che conduceva, che ora vede in video Giuseppe Brindisi. Così l'ex compagno di Giorgia Meloni, travolto dallo scandalo dei commenti che gli è costato forse la fine della relazione col Premier e il ruolo di conduttore su Rete4, si starebbe rimettendo in piedi, tanto da sognare, la conduzione di un TG. Beh, parliamoci chiaro, questo giornalista Gian Bruno non è che ha conosciuto la Meloni quando la Meloni è andata in un'intervista a Mediaset, quindi lui ovviamente già lavorava a Mediaset, però non conduceva assolutamente nulla, era uno dietro le quinte. Quando ha conosciuto la Meloni, da lì in avanti poi è arrivato a condurre la rassegna stampa, programmi televisivi, fino ad avere poi un programma stabile, che era proprio quello diario del giorno. E ovviamente la sua ascesa in Mediaset, nonostante lui fosse lì già da anni, la sua ascesa è data dal fatto evidentemente che era il compagno della Premier. Poi succede questo, striscia la notizia e i video, viene fuori il caso, Mediaset non lo licenzia, lo mette dietro le quinte perché il caso diventa nazionale, quindi fanno finta di accantonarlo, probabilmente la Meloni fa finta di far finire la storia, quindi molto probabilmente la storia non è mai finita e lui sta tornando in video perché Mediaset ha fatto passare un po' di mesi per far sì che l'opinione pubblica si dimentichi parzialmente perché funziona così. L'opinione pubblica si dimentica molto velocemente delle cose. Intanto i casi durano una settimana, il clamore di un caso dura una settimana, massimo dieci giorni e poi comincia il dimenticatoio, se ne dimenticano tutti, quindi se fra uno, due mesi, tre mesi questo Gian Bruno avesse di nuovo la rassegna stampa, qualche giornale ne riparlerebbe, quelli di destra non direbbero nulla per fare il gioco che vi ho appena raccontato, tornerebbe in video e tutto come prima. La Meloni per la sua dignità di Presidente del Consiglio, anche come donna, sta facendo finta probabilmente che la relazione sia chiusa, anche per non farci proprio una figura tremenda, però probabilmente, anzi molto sicuramente, molto sicuramente non si dice, sicuramente secondo la mia però opinione personale tutto è rimasto come prima. Il nuovo ruolo, per esempio, il fatto quotidiano, secondo questo giornale, quello di Travaglio, il suo purgatorio sarebbe finito, da due settimane è infatti diventato il vice di Giuseppe Brindisi e si occupa di scegliere i temi, ospiti e posizioni da tenere a diario del giorno, sarebbe anzi l'unico collegato in cuffia a comunicare con Brindisi. Quindi questo Brindisi deve sentirsi pure quello che dice Gian Bruno, quello che propone Gian Bruno, quello che pensa Gian Bruno. Ma viene dato conto anche di altri pettegolezzi, rumors. Riapparso in pubblico alla Kermess di Fratelli d'Italia, di Atreio, Gian Bruno, spazzate via le voci di una causa a Mediaset avrebbe intenzione di chiedere la conduzione di un Tg dopo le elezioni europee, il Tg4 o studio aperto. Come vi dicevo prima, giustamente poi gli italiani dimenticano, lui torna in video. Il ritorno in video fa capire che probabilmente la relazione non sia mai finita con Giorgia Meloni, perché se fosse davvero finita Gian Bruno l'avrebbero messo in un ufficio a fare le fotocopie per come si è comportato. Invece se gli ridarranno un telegiornale significa realmente che è stata tutta una messa in scena, tutta una questione teatrale. Bene, vi ho voluto raccontare anche questo, apparso sul settimanale oggi e apparso sul fatto quotidiano di travaglio. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi poi che questi video, quelli di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama appunto Teleitalia e poi sugli altri social dove li potete condividere sui vostri profili. Arrivederci a tutti e grazie.